E' un momento per ringraziare quelli per i quali se non ci fossero non saremmo qui nessuno. Non è che annunciarli ma si fanno anche un mazzo tanto e quindi sono tutti volontari dei vari settori, mi avete notati, ognuno ha proprio un carico, fanno dei turni, eccetera. E direi che appunto ormai da un po' di... E direi che appunto ormai da un po' di... ... 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